In questa lezione andremo a vedere quali sono gli strumenti, le tecnologie e le esperienze per l'ascolto dei cittadini. Dopo una premessa sul tema della partecipazione andremo a vedere i singoli strumenti e le singole metodologie. In questi ultimi anni stanno emergendo con sempre più carezza da parte dei cittadini nuovi bisogni e nuove domande di partecipazione alla cosa pubblica, quello che viene chiamato la cittadinanza punto zero, la cittadinanza attiva, un atteggiamento che parte dal presupposto che il cittadino non è solo cliente e utilizzatore di servizi, ma può anche essere invece partner e co-gestore del bene comune. Perché in altri paesi la tecnologia è riuscita a promuovere la partecipazione quando invece in Italia ci troviamo di fronte ancora a una rivoluzione incompiuta? Perché negli altri paesi la tecnologia è diventata un fattore abilitante però di una profonda tradizione di ascolta e partecipazione. Quindi non è la tecnologia che ha introdotto e che ha promosso la partecipazione pubblica, ma è la tecnologia che ha facilitato dei processi già esistenti, processi basati su principi, regolamenti e metodologie concrete che nel loro insieme hanno contribuito a creare una solida cultura partecipativa. Dietro quindi alla cultura della partecipazione c'è un cambiamento culturale, un nuovo modo di intendere il rapporto cittadino e pubblica amministrazione. Quello che si può dire è il passaggio fondamentale dalla logica del castello alla logica della rete. Qual è la logica del castello? Beh è la logica burocratica, gerarchizzata, è la logica per cui all'interno della pubblica amministrazione molto spesso sono ancora vietati i social network e quindi l'accesso a Facebook o agli altri social network, è la logica che nella pubblica amministrazione la presenza viene regolata dai tornelli, è la cultura per cui i privati sono visti come dei fornitori oppure i cittadini come dei semplici utenti. Ecco se questa è la cultura del castello è fondamentale invece pensare alla promozione di una cultura della rete, quella della promozione di una logica orizzontale in grado di coinvolgere diversi attori, cittadini, privati, associazioni nella gestione del bene comune. È la logica del civic hacking, è la logica appunto che il cittadino non è un utente ma può essere anche appunto un partner nella gestione della cosa pubblica. Andiamo a vedere gli strumenti che sempre più spesso si stanno diffondendo e vengono utilizzati all'interno della pubblica amministrazione per consultare i cittadini, però con l'accortezza già speressa che se il ricorso a queste mitologie, a questi approcci non vengono inseriti all'interno di un contesto di cambiamento culturale e organizzativo, sono strumenti che rischiano di non portare grandissimi cambiamenti, ma anzi di creare ancora una maggiore frattura fra cittadini e pubblica amministrazione. Ad esempio da quando gli enti pubblici hanno scoperto Ideascale, piattaforme analoghe per la consultazione di cittadini, è stato un proliferare di consultazione online, dove però, salvo qualche rarissima eccezione, le persone coinvolte sono state veramente poche. Quindi una pubblica amministrazione che si apre, che utilizza strumenti di consultazione, ma che poi non si preoccupa di vedere e di promuovere la partecipazione. Ad esempio la sindaca di una grande città nei mesi passati ha dichiarato con orgoglio ed enfasi, ovviamente su Facebook, che il suo comune ha lanciato una delle prime iniziative di democrazia partecipata in Italia grazie alla consultazione su, tra l'altro, un quesito di minore importanza che riguardava la sua città. Beh, a questo quesito ha risposto lo 0,3% della popolazione del suo comune. Quindi qual è il rischio? Il rischio, oltre all'evidente di banalizzazione, è di coinvolgere chi è già coinvolto, cioè comunque di usare questi strumenti, oltretutto investendo risorse, che però poi hanno il modesto risultato di coinvolgere chi già è enormemente coinvolto. Comunque lo strumento del contest, sebbene utilizzato, invece è uno strumento che permette al cittadino di esprimere un'opinione, di offrire delle soluzioni, di dare delle priorità. Tra le tante esperienze e tra le poche di successo mi viene da citare l'idiario di Cagliari, che è stato utilizzato nelle precedenti elezioni comunali da parte dei cittadini per offrire idee e priorità alla nuova giunta, così come il Torino Open Data Festival. Parlando di contest, è importante mettere in evidenza e salutare con soddisfazione le linee guida sulla consultazione pubblica in Italia, che sono state pubblicate dal Ministero per la semplificazione della pubblica amministrazione nel marzo del 2017. Quindi è un punto di riferimento per tutte le istituzioni che vogliono avventurarsi a utilizzare questi strumenti di ascolto, ma seguendo una metodologia che sia corretta e definita. Accanto ai contest, per la consultazione, diverse sono le tecnologie e le metodologie utilizzabili per interagire con i cittadini. Da quelli più tradizionali, come gli strumenti di customer satisfaction, quindi per capire qual è il grado di soddisfazione degli utenti di un servizio pubblico. Su questo vi consiglio il lavoro fatto dal Dipartimento per la Funzione pubblica con il sito Qualita.pa, dove sono presentati una serie di metodologie e di strumenti per portare avanti analisi di customer satisfaction che siano corrette dal punto di vista dell'impostazione e della metodologia. Ma accanto a questi strumenti tradizionali sempre validi ci sono anche gli strumenti emergenti, come quelli riconducibili al concetto di crowdsourcing, per cui i cittadini dall'esterno, attraverso il telefono, attraverso le app specifiche, attraverso dei siti web, ad esempio segnalano e danno informazioni sui beni comuni che riguardano il proprio territorio, ad esempio segnalando un problema che riguarda magari un lampione, una buca sulla strada, un marciapiede sporco. Sono quindi soluzioni che permettono al cittadino di essere coinvolto nella gestione del bene comune. Crowdsourcing, perché crowdsapreffolla e outsourcing viene da outsourcing, per cui tu in pratica coinvolgi il cittadino, quindi esterno alla pubblica amministrazione nel segnalare e nello svolgere funzioni di controllo del territorio. Su questo sicuramente come esperienza valgono la prima più importante, quella di Fix My Street, che in ambito del Regno Unito per prima ha messo a punto questa applicazione per la segnalazione di problemi o di malfunzionamenti che riguardano il territorio. In Italia diverse esperienze sono state portate avanti, tra le tante segnalo ePART, che è un'applicazione, un sito web utilizzato da diverse città a questo scopo. Le diverse tecnologie e piattaforme utilizzate però tradiscono una visione ancora gerarchica di un'APA che ha difficoltà a considerare il cittadino come un partner e portatore non solo di bisogni e di problemi, ma anche di competenze e di soluzioni. Una prospettiva portata avanti invece ancora da poche amministrazioni attraverso metodologie in grado di sostenere il co-design e la co-gestione dei beni comuni. Tra le diverse esperienze che invece si muove una logica di partecipazione attiva sicuramente è da citare il lavoro fatto dal Comune di Milano con il progetto del crowdfunding civico per cui i cittadini vengono coinvolti anche nel co-finanziamento di progetti innovativi che riguardano l'innovazione sociale o il progetto CUA portato avanti dal Comune di Reggio Emilia o ancora il progetto COCITY portato avanti promosso dalla città di Torino, un progetto che è stato anche finanziato e premiato a livello internazionale. Quindi se ci troviamo di fronte ancora molto spesso a tecnologie, approcci, metodologie che consultano il cittadino e quindi che portano avanti una visione ancora troppo ristretta del rapporto cittadino-pubblico-amministrazione, come spesso avviene in Italia, ci troviamo anche di fronte a delle esperienze di eccellenza che possono essere le portatrici di un nuovo modo, di una nuova cultura di gestire la cosa pubblica. Grazie. 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 Grazie.